Ciao a tutti ho appena finito di lavorare e sono qui a registrarvi il video su Tesla spero stiate apprezzando l'impegno che ci sto mettendo ed è per questo che vi chiedo cortesemente di lasciare un like sotto al video ieri notte mi sono guardato la trimestrale ma ho deciso di fare oggi il video perché volevo andare a vedere cosa Musk avrebbe detto all'interno della conference call ho deciso di riassumere le cose più importanti dette sia nella trimestrale sia nella conference call in questo documento qua che ci guardiamo insieme adesso partiamo dal presupposto che come state vedendo Tesla ha avuto un balzo dell'8% che è veramente molto elevato c'è anche da considerare il fatto che ovviamente Tesla era crollata veramente tanto dai massimi quindi un rimbalzo ce lo si poteva aspettare visto che comunque era crollata tanto e quindi ci si aspettava una trimestrale disastrosa la trimestrale disastrosa non c'è stata anzi è stata abbastanza carina a mio avviso infatti c'è stato un beat sui utili che a mio avviso era la cosa che mi interessava di più è anche vero che c'è da considerare il fatto che c'è stato un beat sui utili ma in realtà se ne andiamo a vedere quello che era stata la previsione degli utili fino a un mese fa era di 1,30 quindi in realtà c'è stato 1,19 di utile per azione che tutto sommato non è assolutamente male anche perché il balzo è stato di un 40% anno su anno che non è assolutamente male se invece non andiamo a considerare l'utile gap il salto è stato addirittura del 57% quindi considerando le condizioni macro attuali un balzo così elevato soprattutto considerando i multipli attuali di Tesla non è per niente male ci tenevo a dirvi che alla fine del video vi farò vedere la mia valutazione attuale su Tesla quindi se avete piaciuto di saperlo proseguite il video fino alla fine allora secondo me le cose più importanti da analizzare sono il fatto che la guidance è stata a mio avviso molto buona perché Tesla si aspetta di produrre per l'intero 2023 all'incirca 1,8 milioni di veicoli che successivamente è stata poi tra virgolette aumentata la guidance appunto da Musk durante la conference call perché qua dice non possiamo controllare se ci saranno ovviamente terremoti, tsunami, guerra o pandemie ma se saranno sarà un anno normale quindi un anno tranquillo la produzione potrebbe arrivare addirittura a 2 milioni che è tanta tanta roba, passatevi il termine poi la cosa a mio avviso veramente spaventosa è stata la crescita del 2022 su 2021 perché è stata del 128% e sto parlando del net income gap infatti chiudendosi l'anno abbiamo visto che Tesla ha avuto un utile netto di 12 miliardi e l'anno prima era solamente di 5 capite che i ritmi del genere con un PE attuale che non è più altissimo perché penso sia intorno al 48 per ritmi di crescita del genere ragazzi non è per nulla male poi sostanzialmente hanno detto che hanno prodotto 1,4 miliardo di veicoli ne hanno consegnati 1 miliardo e 3 quindi va benissimo la cosa che non mi ha fatto impazzire è stato il fatto che il margine operativo sia sceso ulteriormente al 16% in calo rispetto allo scorso trimestre che era del 17 e questo è dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime ma questo lo sapevamo già poi sostanzialmente hanno detto che come vi dicevo prima l'inflazione ha avuto un impatto significativo sulla struttura dei costi ma hanno dichiarato di voler accelerare la riduzione dei costi una cosa che mi ha interessato molto è il fatto che hanno accennato al fatto che vogliono ovviamente accelerare i profitti legati al software ovvero quello della guida autonoma questo perché? perché ha margini molto ma molto più elevate rispetto appunto all'hardware che sarebbe la macchina in sé un'altra cosa che mi ha fatto particolarmente piacere è il fatto che hanno dichiarato di avere la capacità quasi massima a Shanghai quindi perfetto ma da una parte ci aspettavamo anche perché con le riaperture che ci sono state in Cina era abbastanza prevedibile un'altra cosa spaventosa è il fatto che hanno attualmente una posizione di cassa di 22 miliardi e mezzo e qua Musk dovrà farci sapere cosa avrà intenzione di fare se aprire altre Gigafactory o se ricompensare le azioni si tramita magari qualche share buyback che non sarebbe per nulla male soprattutto vedendo i prezzi attuali poi Musk ci ha tenuto a sottolineare il fatto che non ci devono essere preoccupazioni per quanto riguarda gli azionisti sulla decelerazione della domanda perché ha osservato che i tagli hanno scatelato livelli di ordini senza precedenti infatti ha detto che a gennaio hanno registrato gli ordini più consistenti nella loro storia non so se sia vero però penso di sì e qua hanno detto che hanno attualmente ordini quasi doppi rispetto alla produzione e infatti Musk poi nella conference call ha anche detto nel 2023 potrebbero esserci piccoli aumenti di prezzo che teoricamente dovrebbero aumentare i margini visto che non se lo avete notato ma anche le materie prime stanno scendendo ultima cosa ma non per importanza ci ha tenuto a sottolineare il fatto che Cybertruck dovrebbe iniziare la produzione entro l'estate ma ha anche avvertito il fatto che la produzione in serie quindi per la massa dovrebbe arrivare non prima del 2024 quindi quello non benissimo detto questo andiamo ad aggiornare la nostra valutazione su Tesla per chi non sapesse come funziona la mia valutazione funziona semplicemente che ho creato un algoritmo che utilizzando 60 input che sono ratio e indici di bilancio in generale da una valutazione da 1 a 10 anche utilizzando algoritmi un po' più complessi che danno una valutazione anche alla possibilità di crescere dell'azienda la valutazione massima è 10 la valutazione minima è 0 valori sopra il 6 sono valori da considerare molto positivi Tesla attualmente ha un rating di 6,82 che è molto alto credetemi per quanto riguarda il stato patrimoniale ha un voto di 8,78 quindi praticamente perfetto ma l'abbiamo visto prima considerando anche che ha praticamente 12 miliardi e mezzo in cash e 4 miliardi e mezzo in debiti quindi la situazione è praticamente perfetta per quanto riguarda il conto economico ovviamente non ha margini altissimi ma dovuto anche al settore in cui lavora ma comunque un buon rating infatti a 7,22 di rating per quanto riguarda il multipie prezzo che è un po' il tasso dolente di Tesla ha un voto abbastanza basso infatti a 4,67 ma questo è dovuto principalmente al fatto che ha un prezzo free cash flow molto alto infatti 55 ma il free cash flow lo sta aumentando quindi da quel punto di vista lì non ci sono problemi per il lungo termine il discounted cash flow prevedendo una crescita per i prossimi anni all'incirca di un 30% anno otteniamo una sottovalutazione all'incirca di un 25% invece la valutazione sui multipli ci rà una possibilità di profit and loss da 4 anni all'incirca di un 50% ancora infatti ho stimato come vi dicevo prima la crescita degli utili operazioni all'incirca di un 30% anno che ci porta gli utili operazioni attuali di 3,25 a 7,35 dollari operazioni tra 3 anni un pie stimato che correttamente ci può stare intorno ai 32-30-32 otteniamo un prezzo operazioni di 240 tra 3 anni che come vi dicevo prima ci garantisce all'incirca un profit del 50% che non è male per chi volesse vedere il video precedente su Tesla vi avevo detto che ero entrato abbastanza pesantemente e infatti sto guadagnando abbastanza tanto detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like e un commento ci vediamo al prossimo video ciao a tutti